L'Associazione Artù in collaborazione con l'Associazione Nazionale in Marinaia d'Italia ha organizzato uno screening per la prevenzione del tumore al seno ed è una delle signore che si è presentata stamattina. Quanto è importante per lei? Per me la prevenzione è tutto, insomma credo sia una delle uniche possibilità che ormai abbiamo proprio per la cura di questi mali che ormai ci affliggono proprio in un periodo come questo. Ed eccoci con l'organizzatrice della manifestazione, la responsabile dell'Associazione Artù. Sì, buongiorno a tutti. Abbiamo pensato di organizzare questa manifestazione soprattutto per dare manforte alle donne che alle volte o per distrazione o per motivi di tempo non dedicano molto tempo a loro stesse. La donna invece di andare a lei dal medico è il medico e le associazioni che vanno da loro. Sì, per questo ringraziamo soprattutto l'Associazione Alts che ci ha dato la possibilità della sua presenza qui oggi. Voglio ricordare anche che questo camper è stato donato all'Associazione dal allora assessore alle politiche sociali Filippo Monaco che donò questo camper all'Alts e che gira a necessità e a richiesta di chi ne vuole usufruire. Quindi noi abbiamo colto questa occasione e questa possibilità per darla un po' a tutti quanti. speriamo che sia andata bene e che la gente soprattutto abbia capito perché abbiamo voluto fare questa manifestazione.